Musica Benvenuti a Sud Off, ci ritroviamo qui come ogni mercoledì a 21 su Sud per raccontare l'imprenditoria emergente. Oggi ho il piacere di presentarvi due start-up molto interessanti che guardano al mondo dei sogni e lo fanno attraverso una lente di ingrandimento del mondo delle mamme, delle donne e comunque offrono coccole, poi vi spiegherò di che si tratta, e anche una start-up che invece guarda al mondo green. Due mondi che ci affascinano moltissimo e di cui parleremo insieme agli ospiti di questa serata, che saluto e a cui do il benvenuto, Menia Kutrupi, grazie di essere qui, che è founder di mammamenia.it, e insieme a lei Salvatore Salvaguardia, che invece è il founder non solo di mammamenia.it, ma anche di ecos2.org. Due realtà emergenti, molto molto interessanti, anche molto coraggiose, innovative, sicuramente fuori dagli schemi e vedrete insieme a noi anche perché. Io non vi aggiungo nulla, se non quello di guardare insieme adesso un video che vi dà un attimo il sapore di quello di cui stiamo parlando per quanto riguarda mammamenia.it. Guardiamoli insieme. Guardiamolo insieme.it, 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 guardiamolo insieme No, will I ever learn? I don't know how But I suddenly lose control There's a fire within my soul Just round looking, I can hear a bell ring With more looking, I forget everything Mama Mia Here I go again My, my How can I resist you? Mama Mia Ed eccoci qui, siamo tornati in studio, sono insieme a Menia Kutrupi e Salvatore Salvaguardia. Iniziamo col parlare di MammaMania.it, questa piattaforma, e io vorrei dirvi questo. Ho conosciuto Menia durante la fiera della start-up che si è tenuta al palazzo della provincia di Reggio Calabria, fiera della start-up dello stretto, la prima edizione, e durante quell'edizione ho scoperto questa donna, che è un ingegnere di Reggio Calabria, che usa la minigonna e i tacchi alti, e parla di sogni. Parla di sogni, regala coccole, e ha inventato una start-up che sta costruendo sempre più un successo di gradimento, di interesse e di apprezzamento, perché ovviamente è nuova. Io vorrei chiederti però, Menia, di che si tratta, cos'è MammaMania.it e che cosa sono le coccole? Grazie a te, innanzitutto, e grazie a Suddv. Praticamente le coccole, per quello che avete potuto vedere nel video, offriranno attraverso una piattaforma online, che è appunto MammaMania.it, dei servizi multisettoriali, ovvero servizi di benessere, servizi di organizzazione evento, ed inoltre la possibilità di scegliere servizi di babysitting e servizi di stireria. Problemi molto grandi per le mamme, soprattutto i vestiti da stirare. Questa idea nasce da un'esigenza, esigenza di Menia, io, una mamma di 32 anni, 31 l'anno scorso quando mi è venuta, mi si è accesa questa lampadina, che praticamente per otto ore al giorno faceva di ingegnere, si occupava di sicurezza e salute sul lavoro, e comunque anche il sistema di gestione integrato, quindi sicurezza, qualità. Un mondo completamente diverso. Sì, un mondo completamente diverso. Poi, tornando a casa, doveva gestire ed integrare quella che era la sua vita di mamma, comunque anche di casalinga, di moglie, eccetera. E quindi ho avuto questa illuminazione, ho chiamato delle amiche, abbiamo fatto il primo, il 16 gennaio, abbiamo fatto il primo Mamme Brainstorming. Mamme Brainstorming. Sì, era proprio una colazione bellina, con i fiori, insomma, eccetera, e abbiamo proprio pensato a tutto quello che poteva servire davvero alle mamme, appunto questa cosa delle coccole, cioè quelle piccole e grandi attenzioni che comunque ti permettono di vivere più serenamente la vita, e ad essere un po' più appagata e di non avere sempre la sensazione che tutto si dia per scontato. Siamo partiti e siamo qua. E siete partiti, hai detto, quel giorno in cui avevate fatto questo storming, voi mamme, adesso mamme sarete un po' di meno, perché come ogni storia che si rispetti, comunque si parte sempre in tanti con tanto entusiasmo, ma poi comunque chi sente l'idea, chi sente il progetto, lo sposa in pieno, poi è quello che porta avanti il tutto. E lungo questo percorso ho incontrato Salvatore, che ci fai tu con le mamme, scusa, Salvatore, che ci fai tu in questo mondo di coccole per mamme. Sì, innanzitutto grazie per l'invito e grazie anche a te alla TV che ci ha fatto appunto essere qui questa sera. Con Mania ci siamo incontrati in seno all'organizzazione della FIAT delle Startup dello Stretto, perché come anche tu, Pocan, si hai detto, abbiamo costruito questo incontro che vi è stato alla fine di giugno e quindi abbiamo fatto sì che tantissime esperienze del territorio si mettessero in rete. Quindi io ho prestato, tra virgolette, la mia opera al team di Mania, ho prestato anche la mia opera ad altri team e sono contento anche di essere riuscito insieme a Mania a far arrivare quella che diventerà presto una start-up, la piattaforma mamme.it, quello che è attualmente. Ovviamente grazie anche alla capabilità di Mania, perché non ci dimentichiamo che se si è arrivati dove si è arrivati è soltanto grazie alla capabilità di Mania, e ovviamente anche grazie ad alcuni espedienti che magari ho potuto mettere in campo io, visto e considerato che è qualche annetto che mi occupo di marketing e di pianificazione. Ecco, diciamolo Salvatore, perché è bello parlare di sogni, è bello parlare di coccole, è bello perseguirli questi sogni e poi vediamo anche i rituali che accompagnano il lancio di questi sogni ed è una cosa poetica molto bella, però poi bisogna mettere i piedi per terra nel momento in cui si fa i conti con il mercato. E quando un'idea deve essere realizzata ha bisogno della fattibilità. Questa fattibilità passa attraverso comunque degli studi, ovviamente, passa attraverso dei momenti di programmazione e pianificazione che richiedono delle competenze. Salvatore, tu sei portatore sano di questo tipo di esperienze, di questo tipo di competenze. Io vorrei anche approfittare della tua presenza qui attraverso le telecamere di Sud, che è su Doff in particolare, che è appunto una trasmissione che si occupa di politica attiva del lavoro e vuole anche trasmettere dei messaggi positivi e anche costruttivi a un pubblico che ci segue e che ha bisogno di informazioni anche tecniche quando intende cimentarsi in un'attività, in un'avventura di tipo imprenditoriale. Perché non dimentichiamoci che le start-up comunque sono interessantissime, anche noi comunque le raccontiamo molto, però bisogna fare anche molta attenzione perché si può anche incorrere nel fallimento, nulla di grave, ecco, voglio dire anche il fallimento è un'esperienza che può dare valore all'impresa, però ecco, le competenze servono. Quali sono le competenze che tu hai e le competenze che tu hai messo in questo sistema, in questa piattaforma mediatica di mamamania.it? Sì, ovviamente non si può improvvisare, soprattutto in un panorama nazionale, perché poi chiaramente quando si fa una business competition tu sei comunque messo a gareggiare tra virgolette anche con aziende, con team, con persone che provengono dalle svariate zone d'Italia e sono molto capaci. Quindi dopo aver trascorso un periodo di studi in scienze politiche, in pubblico e amministrazioni ed essermi voluto specializzare anche nel settore marketing attraverso un corso, uno stage, anche un lavoro che ho fatto a Londra, ritornando appunto in Calabria ho pensato bene anche di seguire tra virgolette questo mondo che poi alla fine non è altro che la classica creazione di aziende da quelle che comunque possono essere le innovazioni che nel territorio ci sono. Quindi poi sono stato a Roma alla LUIS, ho fatto anche un corso lì e ho preso quegli elementi che poi ho trasferito dalle mie terre perché io sono contentissimo di essere venuto in una TV che si chiama Sud perché io sono fiero, porto sempre avanti questa bandiera ma non perché deve essere un approccio campanilistico bensì anche fare uscire quelle che sono le potenzialità che questa terra ha magari io sono una di queste potenzialità Sud off, tu anche che sei qui, ha i suoi potenziali, meno i suoi potenziali quindi poi noi siamo aggiunti anche come associazione a mettere su la fia delle startup allo stretto perché questa terra ha potenzialità devono essere messe in rete quindi Salvatore da solo non può riuscire a sviluppare quella che è poi un'azienda perché noi veniamo qui, ridiamo, scherziamo però poi alla fine il nostro obiettivo è quello di fatturare di creare dei posti di lavoro di essere anche molto pragmatici quindi rispetto anche a quello che è la concretezza che le startup devono avere perché non tutte le startup poi riescono effettivamente a rottungere gli obiettivi ma questo non deve essere una condizione escludente bensì deve essere una situazione positiva perché il team cresce, il team si forma e poi si può anche reinventare un altro quindi non vediamolo come qualcosa di negativo ovviamente ci sono le strutture come ci possono essere tutti i settori economici però questo secondo me è un importante trampolino che i ragazzi soprattutto quando escono dai licei potrebbero secondo me utilizzare per andare nel mondo del lavoro assolutamente grazie Salvatore di questo contributo che è molto importante mi piace osservarvi comunque insieme perché a Cantamania vedo la scatola dei sogni e poi ce la descriverai vedo in lei questa grande poetica del sogno io ti ho conosciuto e tu dicevi fate nella vita qualcosa di fucsia e ora ci spiegherai che cosa significa e accanto a te vedo una persona invece molto basata competente che comunque ci tiene a sottolineare di aspetti appunto di competenza ma anche di integrazione e di cultura di rete che sono comunque gli ingredienti che messi insieme poi alla fine ci danno comunque la misura di un'idea che speriamo appunto sia vincente ma che comunque al momento state portando avanti molto molto bene tanto da avere partecipato e anche di questo parleremo più tardi a delle business competition a livello nazionale poi ci sono anche dei video che raccontano questo viaggio ma è tutto da ridere ma intanto adesso guardiamo insieme che cosa sono le coccole che non è sottovo ki Grazie a tutti. 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 Perché ci sarà un sognatore secondo me ci sarà il futuro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo visto che abbiamo visto una vincitrice del contesto, perché per promuovere la nostra startup attraverso i principi della Lean Startup abbiamo testato il mercato. Quindi come testare il mercato su un bisogno che prima non esisteva il bisogno di cocco di cocco di cocco di cocco di cocco di cocco di cocco. Grazie a tutti. abbiamo testato abbiamo testare il mercato. e quindi sarebbe questo. con il contesto di cocco di cocco di cocco di cocco di cocco. Noi stiamo vincendo. Noi stiamo vincendo. a credere nei sogni. Se a loro una cosa piace e credono che questa cosa sia giusta devono avere il diritto di realizzarla. E' questo che davvero voglio dimostrare. Io lo sto facendo con enormi sacrifici perché, parliamoci chiaro, una mamma startup comunque ha il potere di acquisto di una casalinga, però ha lo stress di un manager perché comunque deve riunire un po' tutto perché all'inizio è tutto costo opportunità e sacrifici. Per fortuna ho trovato Salvatore che davvero è stato il mio angelo custode che mi sta sostenendo anche dal punto di vista marketing. Sei il custode del sogno. Salva sogni. Ah, salva sogni, ribattezzato. Salvatore, ascolta, io sentivo dalle parole di Menia un argomento molto interessante che è quello appunto legato alle mamme startup. So che voi siete stati in Parlamento in audizione a settembre, il 20 settembre, quindi non da moltissimo tempo, e avete dato il vostro contributo durante questa audizione per rappresentare l'esigenza delle mamme startup. E anche dei giovani. Delle mamme startup e comunque dei giovani in generale appunto che vivono la condizione di startup perché sappiamo molto affascinante, intrigante ma non facile da un punto di vista economico perché diciamo lo startup sicuramente non guadagna nell'immediato e fa un investimento su se stesso, speriamo a buon rendere. Allora, facciamo un passo indietro e torniamo all'audizione parlamentare. Molto interessante questo aspetto, vorrei che lo raccontaste qui e vediamo un po' che cosa ne possiamo ricavare. Sì, allora quando ci ho chiamato diciamo per essere auditi al Parlamento lì si è un po' capito anche diciamo le persone che ci stavano accanto, che ci seguivano, che le cose che noi facevamo non le facevamo soltanto per così, per perdere tempo. bensì perché se io aiuto Omenia o credo nel progetto lo faccio non perché devo passarmi così il mio tempo diversamente, bensì perché credo che il progetto abbia un valore economico e abbia un business model che funziona e quindi io ci investo il mio tempo. Certo. Quindi quando noi siamo stati lì al Montecitorio abbiamo ovviamente, diciamo, sviscerato quelle che erano le problematiche degli start up in genere, degli start up in genere e anche delle mamme che si accingono a fare impresa. Esiste una legge nazionale che è stata appunto ora probabilmente verrà modificata ancora, non è stata diciamo applicata in toto e noi siamo andati anche per dare il nostro contributo sia per quanto riguarda la nostra esperienza e io ho voluto ovviamente dare un taglio specifico rispetto anche alle problematiche che il meridione diciamo sconta rispetto a quello comunque che sono altre zone d'Italia in cui c'è un'infrastruttura di rete e non di rete quindi infrastruttura diciamo di trasporti diversa. Poi ovviamente ho discusso anche rispetto delle problematiche che hanno le aziende e i team a brevettare alcuni prodotti perché non ci dimentichiamo che un team, come diceva anche tu Pocanzi, ha un aspetto fondamentale che è quello lì dell'utilizzo delle competenze e della forza lavoro ma ha scarsa capacità diciamo di utilizzare dei fondi in quanto me è economico, quindi ovviamente io ho suggerito che venisse anche aggiunta la possibilità non so magari di avere uno sgravi rispetto a quello che possono essere la brevettualità insieme alle start-up. Grazie Salvatore, io leggo una frase che è scritta qui nella scatola dei sogni che è posizionata accanto a Menia la leggo, allora dice non esiste buongiorno migliore che svegliarsi con accanto il proprio sogno vorrei quindi vedere insieme a voi in aderenza a quanto abbiamo appena letto un video tratto da Sogni in Volo Startup Calabria guardiamoli insieme e poi ne capiamo il senso insieme ancora qui in studio, a dopo. Al solito vedo le cucinelle, volevo dirvi una cosa, io sto portando, siccome questa non è la prima business competition infatti Niccolò mi conosce già, tra pochi giorni saremo a Ted Garage per costuna allora assieme a mio figlio ho costruito questa scatola di sogni perché mi chiede sempre ma che lavoro fai ora? Prima facevi l'ingegnere, ho detto ora mamma fa la start-up e la start-up è un po' una sognatrice, un sognatore che cerca di realizzare i propri sogni allora io vorrei regalarvi questa cucinella e poi vorrei chiedere a voi di scrivere il vostro sogno e di metterlo dentro la scatola, qua dentro ci sono i sogni di Roma, Napoli, insomma un po' di tutta e poi di scrivere il nome del vostro team su un palloncino che è fuori, magari quando torniamo a pancia piena e di farlo volare, è un gesto simbolico che vuole un attimino far capire l'impegno che tutti noi penso cercando di realizzare le nostre idee ci stiamo mettendo, sacrificando parte di noi e sono felicissima comunque di farlo qui e di partecipare a questa competizione perché comunque è una competizione della mia terra e sono sicura che veramente solo attraverso l'impegno, la sostanza e tanti 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 sacrifici riusciremo ad emergere per qualcosa di bello e non per le solite cose quindi se volete io vi do il foglietto, vi do la gocinella e poi mi date il nome magari dopo e lo scriviamo sul palloncino Ok? Grazie a tutti Allora cosa stiamo facendo? Ma secondate la mia pazzia, vero? Sì Io non posso neanche scappare Allora praticamente questo vuole essere un gesto simbolico come vi ho detto ieri abbiamo messo i sogni nella scatola e li facciamo volare e quindi qua dentro abbiamo preso un impegno e l'impegno secondo me già questo stesso evento ci vuole insomma fare capire che la crescita e che la voglia di fare davvero va oltre le altre cose Speriamo ecco che questa non sia solo una business competition ma sia anche davvero un motivo di confronto, di fare rete davvero se cresce Mamma Mania, se cresce Medical App, se cresce Calabria Innova, se cresce cose male, beauty eccetera non mi ricordo tutti i vostri team però cresciamo tutti e soprattutto cresce la nostra terra che davvero secondo me ha tanta tanta voglia di crescere quindi dobbiamo fare solo una cosa, al mio tre dobbiamo dire viva i sogni e lo facciamo volare però dovete venire tutti qua a farlo volare perché sono pure i vostri sogni Vieni, tenetelo, tenetelo Paolo vieni pure mentre parli al telefono Siamo pronti? Vieni, vieni, tieni occhi tu Allora Uno Allora Insieme Uno Due Tre Vive i calcoli Vive i calcoli Ed eccoci di nuovo in studio, siamo qui con Mania Qtrupi di MammaMania.it insieme al co-founder di MammaMania.it, Salvatore Servil Salvaguardia, founder di ecostu.org che vedremo fra poco insieme e commenteremo insieme Abbiamo visto un video, ecco, di che si tratta questo video? Perché io so che avete partecipato a questa Start Cup Calabria 2014, appunto che riguarda appunto l'innovazione, la cultura di impresa Raccontaci meglio questa esperienza È stata un'esperienza molto bella, di contaminazione positiva tra forme di vita intelligenti, perché era proprio questo il tema, forme di vita intelligenti, infatti ho cercato di portare i miei sogni tra forme di vita intelligenti calabresi Nel video che avete visto, appunto, ho spiegato quello che è il senso della scatola dei sogni Qual è il senso? Parliamo di questa scatola dei sogni Come ho detto nel video, la scatola dei sogni rappresenta un impegno che noi prendiamo con noi stessi, perché essere imprenditore era già difficile Adesso è difficilissimo Io ho la fortuna di essere la figlia, penso, del più grande imprenditore che è il mio papà Che mi ha insegnato veramente tante volte a come rialzarsi, a come non demordere, a come non smettere di fare sempre la cosa giusta E questo è un po' quello che noi facciamo quando mettiamo il sogno dentro la scatola Cioè ci impegniamo veramente sia a cadere, perché è normale, io in un anno ho incontrato innumerevoli difficoltà Però a ricordarci sempre che se vogliamo fare volare in alto i nostri sogni, cioè dobbiamo mettercela tutta E dipende solo da noi, perché io sono arrivata allo Star Cup Calabria, alla semifinale E questo per me è stata una cosa molto bella, perché comunque già a parlare in Calabria di innovazione, di sogni, di positività, di gente che non molla Cioè già questo per me è già un sogno veramente, perché c'è molto, molto, molta energia e molte belle persone comunque che stiamo incontrando anche attraverso le business competition E questo è un bel mondo da raccontare, però tornando alla competizione, perché siete arrivati in semifinale secondo voi? Sbaragliando la concorrenza con una start-up che parla di sogni, coccole, qualcosa che sembra assolutamente tra virgolette effimero O tra virgolette ancora di più secondario rispetto ad altre priorità, che sono magari delle emergenze un po' più avvertite, un po' più sentite I sogni vengono un po' taciuti, vengono vissuti come un fatto privato, no? Invece leggo in questa scatola che c'è una Calabria che sogna, un'Italia che sogna E questo secondo voi ad avere trasmesso il valore per cui avete convinto una giuria di una competizione così importante a livello regionale A scegliere voi rispetto ad altri? O ci sono stati di altri fettori che a me sfuggono? Sicuramente prima di tutto il discorso delle coccole, perché le coccole sono un concetto semplice come idea Però ho imparato anche dagli altri start-upper che più semplice è il concetto e meno gli altri ci pensano Oppure magari dici vabbè è troppo semplice questa idea, però quando provi, come ti dicevo prima, ad applicarla Vedi che comunque non arrivano subito i frutti e ti arrendi Penso sì, forse è la nostra tenacità e la nostra voglia di credere nei sogni Ci ha portato alla semifinale di Start Cup Calabria e poi ci ha portato anche addirittura ad altre finalissime proprio Allora raccontiamo queste finalissime così anticipiamo e poi vediamo insieme questo viaggio che avete fatto Sì, ho fatto l'inizio del viaggio Allora facciamo così, facciamo così, ho capito tutto Allora prima guardiamo il video sull'inizio di questo viaggio e poi raccontiamo questo viaggio Guardiamolo insieme Ho imparato a sognare Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi c'ha da avere avrà Ho imparato a sognare e ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone che se sogni mi ammazzi in metà Quando inizi a capire quando inizi a capire quando inizi a capire che tutto è più grande c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già Tra una botta che prendo e una botta che do tra un amico che do tra un amico che perdo e un amico che avrò Che se cado una volta una volta cadrò e da terra da lì ma alzerò C'è chi ormai che ho imparato a sognare non lo smetterò Ho imparato a sognare quando inizi a scoprire che un sogno ti porta più in là Cavalcando aquiloni oltre muri e confini ho imparato a sognare da là Quando tutte le scuse per giocare sono buone quando in tutta la vita è una bella canzone C'era chi era incapace a sognare e chi sognava già Tra una botta che prendo e una botta che do tra un amico che perdo e un amico che avrò Che se cado una volta una volta cadrò e da terra da lì ma alzerò Tra una botta che prendo e una botta che do tra un amico che perdo e un amico che perdo e un amico che perdo E se cado una volta una volta cadrò e da terra da lì ma alzerò C'è chi ormai che ho imparato a sognare non lo smetterò C'è chi ormai che ho imparato a sognare non lo smetterò E questo era il video riassuntivo di questo viaggio a Tech Garage Cos'è Tech Garage? Allora il Tech Garage è la finalissima dello startup Revolutionary Road Che è praticamente un viaggio itinerante che di pixel fa attraverso un camper Fa tantissime tappe, ascolta centinaia di team e poi ne sceglie attraverso varie fasi di questa business competition 10 10 a livello nazionale Nazionale, sì Noi siamo stati selezionati dal bar camper per la prima fase, il Tech Meeting Abbiamo superato anche quello, quindi siamo arrivati alla semifinale di Milano È la Tech Week proprio una settimana ad alto potere formativo e contaminativo I nostri sogni ci hanno davvero portato in alto perché siamo stati selezionati Quindi abbiamo vinto la semifinale e siamo arrivati alla finalissima che è il Tech Garage Che è stato disputato a Monza il 20 novembre 2014 Per me è stata un'emozione bellissima perché io ho rappresentato la mia terra Io e Salvatore Infatti so perché era Salvatore che tu che ne pensi Sì, perché comunque lui è veramente parte integrante di questo progetto Abbiamo portato quella che è la Calabria, come dicevo prima, la Calabria che sogni Comunque non si limita solo a sognare ma proprio si impegna a vedere realizzati i propri sogni Ed è partito tutto da una promessa Avete visto nel video c'è la foto di mio figlio che sale sul camper perché l'ho portato E io scendendo da quel camper ho detto a Giuseppe ti prometto che mamma ti porterà al Tech Garage Infatti così è stato L'ho portato al Tech Garage Lui poi è salito sul palco assieme a me Ed è stata proprio un'emozione bellissima perché davvero forse ci scoraggiamo Pensiamo che questi siano traguardi irraggiungibili eccetera Invece davvero se una persona si impegna Questo è un segnale veramente bello Sì, ama ciò che fa, ama il fucsia per dire Nel senso che fai qualcosa che davvero ti piace Io dico sempre come dicevi Quindi questa frase che è il tuo mondo Fai della tua vita qualcosa di fucsia significa? Significa questo, proprio Fai nella tua vita Qualcosa di bello, qualcosa che davvero ti piace Perché solo questo ti può allontanare dalla mediocrità E ti può veramente portare all'eccellenza Nel senso non che io sia chissà chi Però davvero ho fatto bene il mio lavoro Perché facevo una cosa con amore Adesso mi sto impegnando a vedere fare, fatturare tutto quello che ho costruito Però davvero ho una spinta in più Perché soltanto amando davvero ciò che si fa Soprattutto oggi in tempo di crisi Cioè non puoi essere mediocre per emergere Devi essere veramente una persona eccellente Perché io sono stata tra le dieci migliori idee d'Italia Assieme a loro sono salita sul palco Hanno vinto questo tag garage dei ragazzi che hanno vent'anni ciascuno Sono dei ragazzi eccellenti e sono stati capaci di trasformare l'invisibile in udibile Attraverso degli occhiali particolari Scusami, l'invisibile è invisibile? Inudibile Vivibile? Udibile? Udibile, sì Per favore fammeli conoscere perché ne ho bisogno Quindi udibile, perfetto Praticamente delle informazioni visive vengono trasformate in informazioni auditive Molto molto bella questa cosa Poi mi informerò meglio La startup si chiama Horus Technology Non sono del sud loro? No, loro sono genovesi mi pare Luca, Saverio, Benedetta Speriamo che possano venire a trovarci Comunque perché sono delle persone che non mollano Davvero, sono delle persone che ce la stanno mettendo tutta Sempre il discorso della tenacia di cui parlavi tu prima Quindi complimenti per questo successo Salvatore Complimenti Menia Grazie E voglio leggere 3-4 affermazioni che riguardano questa piattaforma, questa startup Vivo il sogno Che significa? Vivo il sogno Che è quello che abbiamo visto prima peraltro Vivo il sogno è un nuovo contenitore Vorrebbe essere una sorta di corso motivazionale per startup Ma non solo, per persone che comunque riescono a fare delle avversità ai punti di forza Come tutti noi, ciascuno ha i propri problemi Esiste? È in progress? Esisterà? Esiste, esiste È inserito per il momento dentro il sito Mamma Menia Perché comunque stiamo cercando di fare andare avanti entrambe le cose Però giustamente devi concentrarti più su una cosa Però abbiamo unito, come hai potuto vedere prima, il sogno e le coccole Benissimo Ed è proprio una sorta di corso motivazionale per persone che non mollano Ok, quindi Vivo il sogno è un corso motivazionale per persone che non mollano, non vogliono mollare E lo troverete all'interno della piattaforma mediatica mamma menia.it Salvatore, Calabria che sogna? Cos'è? Sì, allora Calabria che sogna è in un certo senso l'unione dei due progetti che Menia ha ideato Perché se si è arrivati dove si è arrivati, anche perché ci sono delle persone tenace Quindi la tenacia, la testardaggine classica dei calabresi Sfruttiamola per queste cose Non la utilizzano per fare le azioni negative o delittuose In questo caso viene utilizzata per fare sviluppare la propria terra Perché se noi siamo qui, lo siamo e teniamo duro perché vogliamo sviluppare qui le nostre idee Perché altrimenti anche tante volte a me hanno detto di andare e far incubare la mia startup In un incubatore del nord Italia Io non ho voluto, ma non perché sono una persona che non vuole far crescere la propria azienda Bensì perché è importante che si sviluppino qui Secondo te questo è un valore, farle sviluppare a sud, laddove nascono le idee Bene, il volo dei sogni Il volo dei sogni è sempre parte dalla scatola dei sogni La scatola dei sogni vuole essere il mio contributo Nel senso a portare il mio figlio Questa scatola è stata costruita da me e mio figlio E quindi io l'ho portata a tutte le business competition a cui ho partecipato A Milano, a Roma, a Salerno Ho portato questa scatola dei sogni E poi abbiamo fatto volare questi sogni L'abbiamo fatto con gli startupper L'abbiamo fatto anche a degli eventi con dei bambini L'abbiamo fatto all'inaugurazione della piattaforma Quindi è proprio un rito, come dicevo prima È un impegno a voler avere realizzati questi sogni Ed è stato molto utile perché ha creato davvero quella che è, secondo me, la forza delle start-up Perché sì, le business competition sono sempre delle competizioni Però l'effetto più bello che generano è proprio la contaminazione Grazie Emilia e tanti auguri Grazie a voi Adesso continuiamo con Salvatore Perché adesso parliamo di un altro argomento Che è un argomento un po' sognatore anche questo Che però ha a che fare con il green Ecco, che cos'è Ecos2.org? E che cosa sono questi laboratori green? Sì, sono molto contento ogni volta di parlare di laboratori green Perché io ho, tra virgolette, un animo green Mi piace anche, diciamo, andare in giro per la nostra terra Perché è una terra bellissima, la nostra Quindi io tutte le domeniche vado in montagna E qui una mattina mi è venuta un'idea Dopo che per dieci anni mi sono occupato di biodilizia Ho pensato bene di utilizzare quelle che erano i comportamenti green degli individui Quindi per esempio il crash sharing Piuttosto che magari l'utilizzo intelligente di quella che è la mobilità sostenibile E' un'utilizzo di costruire una piattaforma Che cosa fa Ecos2? Ecos2 vuole creare un monte crediti di non emissioni di CO2 Perché come voi sapete c'è un protocollo di Kyoto È una cosa un po' tecnica Però è molto interessante, lo vederò perché Quindi c'è un protocollo di Kyoto E ci dice che noi dobbiamo abbassare quelle che sono le emissioni in atmosfera Quindi dobbiamo, tra virgolette, inquinare di meno Allora ho pensato bene di creare questa struttura In cui tutti quanti gli individui si iscrivono È gratuita E caricano le proprie non emissioni di CO2 Quindi le proprie azioni green Io oggi qui sono venuto in crash sharing con Mania Quindi ho risparmiato, non emesso CO2 Questo mio risparmio viene caricato sulla piattaforma Una volta che viene caricato sulla piattaforma Io rivendo questo credito non emesso Alle aziende sotto forma di certificati green Questo è il mio business model Ovviamente chi gioca Perché alla base c'è il gaming Che è importantissimo Il gamification Alla base di questo c'è la possibilità L'individuo di avere un premio In base a quanto tu risparmi Durante la tua vita giornaliera Quindi è un incentivo sostanzialmente questo premio Come si vincono questi premi? Bisogna comunque partecipare al game Quindi bisogna accedere alla piattaforma? Sì, allora ovviamente Questo è un progetto abbastanza ambizioso Perché la piattaforma deve essere una piattaforma multilingue Servono tantissime risorse Io ovviamente ho messo del mio E in questo momento sto cercando anche dei finanziamenti Per costruire la piattaforma Insieme al mio socio che è l'ingegnere Biak Che con la sua società Mi ha dato una grossissima mano d'aiuto A sviluppare il progetto E farlo arrivare dove è Quindi ora noi dobbiamo dimensionare il progetto Servono anche gli ingegneri Perché ovviamente noi Come ottimi calabresi Vogliamo fare tutto nel migliore dei modi Quindi serviranno delle persone Che ci aiuteranno a sviluppare Nel migliore dei modi la piattaforma Quindi ancora non esiste La piattaforma non è usabile Pensiamo per il 2015 Di rendere la piattaforma usabile E ovviamente tradurla Perché noi È 2015 Perché noi vogliamo Far sì che questa piattaforma Per la fine dell'anno prossimo Veramente riesca a decollare Quindi è un sogno anche tu Che è legato a questa start-up Insomma Speriamo che si realizzi nel breve Ti sia dato un tempo che è il 2015 Speriamo che le telecamere di Sud Di Sudoff Nello specifico Ti possano aiutare E guardiamo insieme Un contributo video Che entra poi Nello specifico Della presentazione Di questa piattaforma Guardiamoli insieme E poi torniamo in studio E continuiamo a parlarne Insieme a Salvatore Salvaguardia Salvaguardia Sono appunto I founder Di Labordale Green Labordale Green È una struttura Che ho pensato Ho messo su Da ormai 7-8 mesi In passato Mi sono occupato Di biodivizia Mi occupo ancora Di biodivizia Ma come diceva Anche Francesco Prima A un certo punto Ho pensato Ho detto Attenzione Quello che ho fatto Fino ad ora Dei 10 anni Qualcosa Sì che mi ha dato Tante soddisfazioni Ma è arrivato Il momento Di cambiare Perché Il mercato Si è evoluto È cambiato E quindi È arrivato il momento Di fare un passo avanti Labordale Green Ha l'obiettivo Di creare Una struttura Che porterà avanti Nei progetti Uno di questi È Ecos2 Questo qua appunto È stato sviluppato Da Domenico Che cosa fa Ecos2 È una Sarà Cioè è Ma sarà Io parlerò Al presente Perché voglio Appunto parlare Al presente È una piattaforma Ultilingue Che si occuperà Si occupa Di Raccogliere Quelle che sono Le buone azioni Green Da parte Degli individui Da user Quindi di tutti noi Quindi in emissione Per quanto riguarda L'emissione Di CO2 in atmosfera Quindi le abbonazioni Che ognuno di noi fa Verranno Raccolte In questo sito Attraverso Delle Delle prove Che l'utente Andrà A caricare Fisicamente Attraverso Un'applicazione Comunque Un back Che noi stiamo studiando Quindi L'utente Risparmierà CO2 Quindi facendo Granamentazioni virtuose E poi ci sarà Un sistema Di premialità Per esempio Io per venire qui Ho preso Un mezzo pubblico Non ho usato la macchina Quindi io non ho messo In atmosfera Un determinato kg di CO2 Il laboratorio Green Diventerà Un ente certificatore E attraverso Questa certificazione Noi venderemo Alle aziende Allora Perché le aziende Vengono acquistate Certificate Questa è una domanda Che giustamente Tante persone fanno Ovviamente c'è Un obbio legislativo Migliorare la reputazione Dell'azienda E può anche Fidelizzare I clienti Stiamo sviluppando Il progetto La pettoforma E come dicevo Insieme a Domenico E a Francesco E a Danilo Basta che dice Evermind Ed eccoci qui in studio Siamo in chiusura Non possiamo però Non finire Come sempre Si concludono Le trasmissioni di Sudhoff Con una speranza Salvatore a te Sì allora Io mi auguro Che Nella nostra terra Possono nascere Delle sinergie Quindi anche Nuovi team E nuove idee Personalmente Mi auguro Che ecoscu.org Vada bene Con l'anno Avvenire 2015 Che è il progetto Di Menia Pure raggiunga Diciamo Il traguardo Che si è prepisso Quindi Mi raccomando Visitate www.ecoscu.org E scrivetevi Alla newsletter Che è presente nel sito Grazie ancora Per l'invito Grazie a te Salvatore Menia Tu Il tuo sogno Al di là dei sogni Il mio sogno Al di là dei sogni È Davvero Che la mia start up Possa avere successo Non solo per me Dal punto di vista economico Ma anche per fornire Energia positiva Alla Calabria Che sogna E all'Italia Comunque che sogna Perché siamo un paese Bellissimo E abbiamo tante energie Potenziali Dobbiamo metterci Un po' di ottimismo Perché Ultimamente Sento spesso Parlare Di lamentele E poco di risoluzione Dei problemi Invece Secondo me Dobbiamo fare il contrario Smettere di lamentarci E aggredire i problemi Solo così Possiamo andare avanti Quindi Visitate il mio sito www.mamamania.it Partecipate al contest E chissà che non possiate essere voi Proprio ad essere i prossimi coccolati Non smettete mai di credere Di cercare di realizzare i vostri sogni E vive i sogni E quindi con Sud Off Chiudiamo questa puntata Dedicata al sogno Dedicata alle coccole Dedicata alla start up Anche Sud Partecipa al rituale Del volo dei sogni Insieme ai registi E gli operatori Insieme a ecostu.org Insieme a www.mamamania.it Per fare volare i nostri sogni in cielo E sarete con noi Alla prossima Ciao Ciao E' felice che partiamo E quindi Dove andiamo? Al sito Al sito Quindi ora facciamo volare i nostri sogni Sì Quindi viva i sogni E viva Mamamania E viva I miei fabbricanti di sogni 3, 2, 1 Via Pallalo Vive i sogni Vive i sogni Sì